Con l'arrivo del fine settimana è tempo di tornare in campo per la Sancataldese in occasione della 25esima giornata del Girone I di Serie D. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Real Aversa, il calendario condurrà la squadra di Infantino a Castellabate, in provincia di Salerno, regno del Santa Maria Cilento. Per i Verdamaranto un appuntamento che potrebbe avvicinare ulteriormente la famigerata quota di 40 punti, sinonimo di salvezza. E' sempre stato questo l'obiettivo dichiarato dallo stesso allenatore siciliano che vede sempre più vicino alla destinazione. Le due squadre sono distanti soltanto tre punti, il che renderà ancora più interessante la partita. Per i campani sarà l'occasione del riscatto dopo la sconfitta patita contro la Cireale. Questo il programma completo della 25esima giornata del Girone I di Serie D. Domenica 26 febbraio alle 14.30 Trapani a Cireale, Santa Maria Cilento San Cataldese, Realla Versa Castrovillari, San Luca Canicattì, Mariglianese Locri, Vibonese Città di Sant'Agata. Con calcio di inizio alle 15 Catania Paternò, Licata Cittanovese e Ragusa La Mezzia Terme.